Musica Monitorare i vari quartieri, girare la città dal centro alle periferie, questo è il minimo che un sindaco deve fare, ma così non è stato con l'amministrazione Melucci. E purtroppo ci sono delle aree, delle zone completamente abbandonate in cui sembra proprio che l'amministrazione comunale non esista, sembra quasi che siano state completamente proprio cancellate dal comune di Taranto. Talsano, tante problematiche, quest'oggi ho avuto modo di girare ma conosco la realtà dopo tanti servizi giornalistici sparsi negli anni e abbiamo un abitante della zona che ci vuole così in pochi minuti esprimere quelle che sono le criticità di questo quartiere. Sì e noi come si dice a Talsano è solamente una borgata dove i candidati vengono solamente a prendere i voti perché Talsano è un bacino di utenze ben prosperoso che la gente... Ben nutrito Ben nutrito esatto, che i candidati vengono a Talsano, ecco se lei adesso si fa un giro sul corso di Talsano vedete quante comitati elettorali si stanno formando perché i candidati vogliono prendere i voti da Talsano. Ok va bene e poi dopo tutte belle parole in campagna elettorale, diamo una mano ai quartieri, alle periferie, questo è il momento opportuno dove però poi del resto... Passano cinque anni e poi si ripresentano le stesse persone, parliamo di problemi concreti. I problemi come comunque sentivo prima ci sono i problemi delle strade, allagamenti delle strade in qualsiasi parte di Talsano. Io vorrei che comunque l'amministrazione, chi sarà eletto, chi sarà il sindaco, divenire proprio quando c'è il problema perché quando è tutto passato tutto sembra che non sia successo niente. Però ci sono delle zone che comunque la gente non può uscire di casa, non può cambiare uguale macchine, ci sono le caditoie che chissà da quanti anni non vengono pulite. La rete fognante, la gente, scusa se uso questa parola poco ortodossa, trova le feci dentro casa perché c'è anche la fogna, ci sono certi dombini della fogna che sono otturati. Chissà da quanti anni non si fanno queste pulizie delle rete fognante. C'è il problema, il problema ne parlavamo, della viabilità e degli incroci pericolosissimi. La viabilità sul corso Vittorio Emanuele, come dicevo prima, c'è purtroppo un'anarchia perché adesso da quando non c'è più il pullman, perché il pullman c'era andata direzione Leporano e andata direzione Tarno. Adesso la direzione Tarno l'hanno tolta perché fa il giro dall'altra parte. Quindi adesso che cosa succede? Che comunque ci permettiamo di fare la seconda fila, terza fila, macchine sui marciapiedi, gente contromano, motorini che sfrecciano sui marciapiedi. È diventato un'anarchia, ognuno si permette quello che uno vuole perché tanto non c'è controllo, non c'è polizia locale. La sezione della polizia locale non esiste su Tarsano. Quante volte abbiamo chiamato? Ci hanno sempre riferito, conosciamo la situazione di Tarsano e tutto rimane sempre come sta. L'altra cosa importante, e chiudo, anzi ringrazio dalla possibilità che mi date, sono gli incroci. Ci sono certi incroci su Tarsano che non so per come non è scappato il morto, continuano a fare incidenti, però nessuno prende provvedimenti. Segnaletica inesistente, non ci sono gli stop, non ci sono la segnaletica verticale, orizzontale, non c'è niente. Siamo un quartiere abbandonato a se stesso. Vedete, io in 21 anni di attività giornalistica ho sentito queste lagnanze sacrosante dei cittadini, le ho sentite centinaia di volte e credetemi dopo 21 anni mi sono davvero stancato di ripetere le stesse cose. Perché queste interviste, avremmo potuto farle 4, 5, 10 anni fa, sarebbero utilissime anche oggi. Bastava, come dire, registrarle, archiviarle, congelarle e poi riproporle. Perché tanto non cambia niente, anzi in molti casi la situazione peggiora. Ecco perché io ho deciso di candidarmi sindaco trasversalmente ai partiti. Perché mi sono stancato, perché da giornalista, credetemi, avevo perso gli stimoli. Il giornalismo è una funzione sociale, ma la funzione sociale deve avere anche una risposta da parte di chi amministra e di chi prende le decisioni. Ma quando si parla nel deserto, si parla al muro e nessuno ti risponde, è allora ecco la ragione per la quale ho deciso di candidarmi trasversalmente rispetto a tutti i partiti, né centrodestra, né centrosinistra, né Movimento 5 Stelle, perché questi partiti e questi uomini politici, nei decenni, hanno preso soltanto per i fondelli i cittadini. Né più e né meno. E allora il mio appello, molto chiaro, molto sincero, se la città vuol cambiare, eccomi disponibile alla luce di quello che ho fatto. Per Taranto ho sempre lottato in 21 anni di attività giornalistica. Se poi il cittadino evidentemente sta bene, come sta? E allora che dire? Tolgo il disturbo, ma non posso pensare che il cittadino sia autolesionista e voglia continuare a soffrire. Sarebbe davvero un assurdo, un folle suicidio.